Il corso di laurea in fisioterapia traslocherà da Piacenza a Fiorenzuola e per questo l'azienda sanitaria è in cerca di locali in affitto nel capoluogo valdardese. Il termine per presentare le offerte è fissato alle 12 del 4 settembre. L'ASL ha avviato la procedura amministrativa per un'indagine di mercato dedicata alla ricerca degli spazi, che dovranno avere specifici requisiti tra i quali la collocazione a ridosso del centro storico e una superficie di 400-500 metri quadrati per poter ospitare circa 70 studenti. La durata del contratto è di 6 anni. Nell'avviso pubblico si legge che la proprietà dovrà assicurare la propria disponibilità ad accettare il canone di locazione che sarà ritenuto congruo dall'Agenzia del Demagno e che l'azienda sanitaria si riserva la facoltà di non selezionare alcuna offerta. L'intenzione dell'ASL era quella di trasferire il corso già dall'autunno con l'avvio del nuovo anno scolastico. L'ex municipio in corso Garibaldi era la sede ideale individuata dalle istituzioni per il corso di fisioterapia e per la casa della salute, ma l'edificio necessita di un intervento di riqualificazione. Il sindaco di Fiorenzuola, Romeo Gandolfi, ha fatto sapere che la soprintendenza di Parma ha dichiarato la compatibilità della destinazione d'uso. I locali dunque sono risultati idonei e l'iter progettuale può continuare.